Scattare quando c'è poca luce è sempre un problema con qualsiasi macchina fotografica. Ecco che oggi sono qui a farvi vedere delle fotografie realizzate con una fotocamera in particolare di cui andremo a parlare perché è possibile che siamo arrivati a un punto tale per cui la sensibilità quando c'è poca luce non è più veramente un problema e quindi riusciamo a portarci a casa delle ottime fotografie anche in scarsità di illuminazione. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Ho già pubblicato un video in cui vi mostrerò grosso modo le stesse immagini e di questo mi scuso ma l'argomento è esattamente lo stesso per cui oggi andiamo a parlare della Canon EOS R6, una fotocamera che io ho utilizzato in particolare per uno shooting a teatro. L'illuminazione, ve l'assicuro, era abbastanza, non dico scarsa perché c'erano i faretti, però c'erano delle alternanze di luce e ombra che rendevano abbastanza difficoltoso scattare e vi dirò di più. Durante questo shooting io ho utilizzato gli ISO automatici, una cosa che di solito non faccio ma in questo caso mi sono proprio detto ho preso una macchina con cui ci si può permettere di maltrattare un pochettino i valori ISO e allora lo faccio, utilizzo gli ISO in automatico e ho impostato la macchina in priorità di tempi quindi ho impostato un centosessantesimo, un duecentesimo, un valore di questo tipo, non mi ricordo neanche esattamente ogni tanto variavo e ho impostato il diaframma in automatico e gli ISO in automatico. inizialmente avevo impostato un tetto intorno agli 8.000 ISO, siccome non bastavano l'ho spostato a ISO 12.000 e non mi ricordo più cosa cavolo è 12.600, 12.400, l'ho spostato più in alto. Siccome ancora non bastava, perché sapete che c'è la possibilità di dirgli stiamo scattando in automatico però non superare certi valori, non andare sopra certi valori, non andare sotto certi valori, io l'avevo fatto perché volevo comunque stare dentro di un certo range, non volevo sforare troppo con questi valori ISO e quindi mi sono proprio detto, gli metto un tetto. Siccome il tetto non bastava, avrei dovuto allungare i tempi e non volevo farlo perché allungando i tempi a quel punto è un problema perché mi venivano le persone mosse quindi i tempi non si potevano toccare, i diaframmi erano già aperti al massimo e quindi ho detto, aumentiamo questa soglia ISO. E che cosa è successo? Andremo a vederlo nel corso del video ma prima di vedere fantomatici esempi, io vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto vi ricordo anche di lasciare un like a questo video perché voi non lo sapete ma mi date una grossa mano in maniera del tutto gratuita e che dire, andiamo a vedere questa prima carrellata di immagini dove io vi assicuro i valori ISO sono molto alti nel senso che a questo punto io non stavo più guardando i valori quei 30 secondi per trovare il parametro dopodiché scatti in scioltezza e vai via liscio così diciamo che avendo tolto la soglia io ho guardato così a random qualcosina di quello che stavo facendo e i valori ISO oscillavano quasi sempre tra 5000 e 8000 ISO che è un valore alto per quelli che sono i miei standard, è molto alto in certi scatti probabilmente sono andato anche oltre e devo anche dirvi che avevo comunque attivato la riduzione del rumore in camera che è un'opzione che io non ho mai usato perché ho sempre voluto farla a mano dopo una volta arrivato a casa a computer è una cosa che questa volta non ho fatto e secondo me ne ho beneficiato molto soprattutto in termini di tempo oltre che di resa perché ho scattato in JPEG ho scattato in JPEG perché era uno shooting lungo, complicato e non volevo impazzire con la post produzione quindi ho detto facciamo lavorare la macchina facciamo in modo che la macchina mi tiri fuori un file già pronto e funziona ragazzi, funziona maledettamente bene quindi io sono, ho anche fatica a fare il conto saranno 16 anni che scatto in RAW e adesso per la prima volta le mie certezze vacillano e mi sto dicendo ma non è che ho perso un botto di tempo e attenzione bene, dobbiamo fare un distinguo se io sto fotografando il tramonto più bello della mia vita ed è una foto per me stesso, è un conto io scatto in RAW, faccio tutto quello che voglio faccio bracketing, faccio focus stacking tutto quello che ci pare non è che il RAW non si fa più però in certi contesti soprattutto quando lavori per un cliente e gli devi fare tantissime foto e sto pensando agli eventi eventi aziendali, eventi noiosi cose di questo tipo cioè noiosi nel senso che non è un concerto non siamo lì per divertirci ma è una roba proprio aziendale di lavoro è una cosa brutta e noiosa e il discorso qual è? in quei contesti io faccio tutte le mie foto in RAW pesano tantissimo, me le porto in ufficio le devo tirare giù tutte devo aprirle col software di post produzione devo applicare cose fare tutte delle micro regolazioni e poi le esporto e le mando al cliente ma quando io vado a vedere com'era il RAW e com'è il JPEG che io mando al cliente sono molto vicini perché comunque non ho stravolto non ho fatto chissà che cosa non ho cambiato i colori quindi più o meno quello è e a quel punto io mi dico ma ha senso che continui a fare tutta questa post produzione in maniera stupida per mandare delle foto che vanno già bene così e poi attenzione quando io vado a impostarmi il JPEG in macchina gli posso dire delle cose cioè quindi gli posso dire me lo devi fare più saturo meno saturo più contrastato meno contrastato me lo devi fare già in bianco e nero attenzione che da queste cose non c'è ritorno nel senso che se gli diamo contrasto a bomba nitidezza a bomba e bianco e nero poi non è che possiamo riportare indietro il file e ripristinare il colore e tutto quanto bisogna essere sicuri di quello che si sta facendo perché quello è e non si torna più indietro se ho scattato in bianco e nero i colori non li recupero più quindi bisogna essere molto cauti e molto sicuri di quello che si sta facendo nel mio caso io lo ero anche perché non ho scattato in bianco e nero il punto però è che con la riduzione del rumore impostata in macchina ho impostato la riduzione standard quindi non ho impostato la riduzione massima quella estrema ho impostato lo standard devo dire scattando con un diaframma di 7.1 perché stavo usando l'RF 100-500 anche quello l'avevo noleggiato non lo possiedo io una lente del genere non mi interessa tanto perché la userei poco avendo affittato quella lente scattando quindi con il diaframma massimo che è 7.1 al massimo zoom purtroppo ero veramente un pochettino stretto per quanto riguarda l'illuminazione della mia scena e quindi sono stato costretto ad alzare l'ISO a dismisura e che cosa è successo? Niente ragazzi niente nel senso che le immagini sono belle vanno bene così io stavo scattando a ISO probabilmente più di 8000 con un diaframma 7.1 e le immagini andavano bene andavano bene per lo scopo che ci si era prefissati ovvero documentare la serata l'evento lo spettacolo andavano benissimo vanno bene anche nel 98% dei contesti nel senso che se fate un matrimonio così va bene se fate un evento aziendale così va bene fate foto in spiaggia foto per una band foto per quasi qualsiasi cosa va bene così ovviamente scattare ad al TISO a me non piace perché più che il rumore che il rumore guardate a me non interessa così tanto perché tanto poi lo so che la metà di voi starà guardando il video sul telefonino dai mettetemelo giù in un commento quanti stanno guardando questo video dal cellulare quanti invece da un monitor di un computer più grande o da un televisore o da un tablet scrivetemelo giù in un commento secondo me quasi tutti state guardando da mobile perché lo starete guardando in giro si è di fretta lo so lo so come funzionano queste cose quindi nel momento in cui io vado a mettere i miei contenuti anche le mie foto su un video come questo lo vedete comunque piccolo e il rumore non è che si veda veramente va completamente perso non si vede per niente quello invece che si vede è la perdita di gamma dinamica che significa una sensazione di contrasto aumentato a me questa cosa normalmente non piace non perché io sia contro al contrasto di per sé ma perché a me piace avere i dettagli presenti in tutte le parti del mio fotogramma un po' come come di solito sono le rappresentazioni cinematografiche nel cinema salvo delle graphic novel un po' particolari però anche ultimamente per il fatto anche che si gira in log anch'io sto girando in log in questo momento il log è un formato che mi permette di mantenere più dettaglio possibile su tutto il fotogramma quindi difficilmente ci sono delle zone 100% bianche o delle zone 100% nere sì ce ne sarà qualcuna ma è difficile la maggior parte del fotogramma è medio e io rincorro un po' quel tipo di look perché mi piace perché è un'estetica che mi piace per il fisico di gran lunga quello piuttosto che le immagini strassaturate stracontrastate non mi piace quel tipo di immagine quindi rincorro un pochettino un qualcosa di un po' più cinematografico un po' più morbido meno estremo per questo motivo scattare con i soalti a me non piace mai però bisogna anche dire una cosa non bisogna lasciare che il proprio stile le proprie preferenze sopraffacciano il nostro lavoro ovvero se io mi trovo a dover realizzare uno shooting di questo tipo per un cliente di questo tipo faccio quello che devo fare per dargli le foto più belle possibile più limpide possibile ma quello che importa qui è che io colga l'attimo del momento in cui l'attore l'attrice il ballerino la ballerina hanno l'espressione giusta e sono nella posa giusta e stanno facendo il movimento giusto e lo sto catturando nel momento migliore possibile con i parametri giusti per non averlo sfoccato questo è l'aspetto tecnico di cui io mi devo prendere cura in uno shooting come questo la gamma dinamica in uno shooting come questo passa completamente in secondo piano anche perché tu vai a dire a una persona che hai ritratto sul palco eh sì guarda bello spettacolo ti ho fatto delle foto peccato per la gamma dinamica quello ti guarda e ti dice senti vorrei il numero del tuo spacciatore però in fretta perché ho un appuntamento cioè capite non gliene frega niente mentre invece di essere venuti bene come gli interessa e come ora con questa fotocamera io ho ottenuto un risultato che mi ha mi ha sorpreso mi ha sorpreso al punto che se avete visto i video precedenti io questa fotocamera l'ho acquistata perché a questo punto mi ha veramente convinto e a questo punto la preferisco anche a modelli che avevo preferito in passato come la R5 o la Mark II le avevo preferite in passato alla R6 per una serie di caratteristiche non avevo valutato i pregi di R6 però incluso il prezzo è inutile prendersi in giro incluso il prezzo perché io l'ho pagata 1700 1700 euro mentre gli altri modelli la Mark II costa 2500 e la R5 costa 3008 quindi non vi nascondo che il prezzo ha giocato una grossa parte vi faccio anche notare però che non ho preferito R8 R8 che veniva via a 1800 mi pare mi pare 1800 l'ultima volta che ho guardato era 1800 quindi per uno scarto di 100 euro però io comunque ho preferito la R6 perché la R6 è pro mi dà tutto quello che mi serve mentre la R8 no in particolare la R8 non mi piace la batteria non è una questione di sensore stabilizzato non me ne frega niente ma la batteria io con la batteria di R8 non ci posso lavorare e poi c'è anche un'altra cosa ovvero la R6 mi piace perché mi proietta verso l'ottica in cui sto ragionando in questo periodo ovvero l'ottica di non scattare più in RAW di non scattare sempre in RAW quantomeno la R6 mi dà un file con una gamma dinamica sufficiente con un'elaborazione JPEG in macchina abbastanza buona con abbastanza parametri tra cui spipolare che non avevo su camere precedenti da permettermi di non scattare più in RAW e io quella roba lì non la voglio più fare non ho più voglia di scattare in RAW non sempre almeno ovvio che se è una cosa per me è una roba a cui tengo o un cliente importantissimo lo faccio però di default scattare sempre in RAW è una cosa che io non voglio fare più perché non mi serve perché il più delle volte ho lì tutti i RAW li esporto quasi così come sono e quindi non lo voglio più fare mi gestisco il JPEG in macchina dandogli dei parametri con un po' di testa ovviamente fatemi sapere in un commento se vi interessa vedere come è imposto il JPEG in macchina perché potrei fare un video dedicato proprio su questo il discorso è che con questo upgrade io conto di velocizzare quantomeno il flusso di lavoro e questa è una cosa interessante per molti fotografi perché in tanti mi dite io non voglio fare la post non mi piace non mi interessa voglio lo scatto pronto subito non voglio pagare per programmi di post produzione costosissimi con l'abbonamento che si rinnova ogni anno è una bella porcata ragazzi sono il primo ad ammetterlo io sono nato che tu compravi una licenza per un software e poi te la facevi durare dieci anni e non ti rompevano più le scatole e quello l'avevi pagato ed era tuo adesso ogni cinque minuti ti fanno così sulla spalla e ti chiedono più soldi quindi sono d'accordissimo che è una bella porcata secondo me andare in questa direzione quindi nella direzione di uno sviluppo in macchina ovviamente è una semplificazione ovviamente ci toglie qualcosa però ci fa guadagnare tempo e guardate che il nostro tempo è sempre più prezioso perché il digital ce ne fa perdere sempre di più quindi noi perdiamo metà della nostra giornata io sfido chiunque di voi di guardare quanto tempo passate al cellulare in una giornata il digital ci drena metà della nostra giornata e se noi del tempo rimanente passiamo anche solo un'ora a fare post produzione su una cosa che magari andava bene così secondo me è veramente tempo perso in maniera quasi sciocca per questo motivo vado in questa direzione fatemi sapere in un commento se siete d'accordo su questa linea di condotta oppure se avete delle riserve ne parleremo come sempre nei commenti iscrivetevi così non vi perdete i miei shorts verticali di risposta è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video e io vi do appuntamento